Spese abnormi, così il pubblico ministero Morena Plazzi ha definito i rimborsi chiesti da diversi ex consiglieri regionali dell'Emilia Romagna finiti al centro del caso, spese pazze. Nella lunga requisitoria finale nel processo in corso a Bologna, di fronte al collegio giudicante, l'accusa ha chiesto sei condanne e sette assoluzioni. La richiesta più dura è stata per l'ex capogruppo PD Marco Monari, cinque anni, in quanto accusato non solo delle sue spese personali, ma anche di non aver controllato quelle dei colleghi. Un caso scottante, finito la ribalta delle cronache insieme ad altri consiglieri di varie regioni italiane. Per gli altri accusati le richieste di condanna sono state più basse, tutte tra un anno e sei mesi e due anni e sei mesi. Tra le richieste di assoluzione spicca invece il nome del romagnolo Damiano Zoffoli, le cui spese sono state giudicate regolari. La parola ora passa alla difesa, mentre la sentenza è prevista per ottobre. Tornando all'entità delle spese, spicca nuovamente il sex toy, ma primeggiano cene in varie località anche di mare per importi superiori di anche 1000 euro cada una. Sul fronte consulenze sono state invece chieste assoluzioni in tutti i casi, tranne in quello di un sovvenzionamento ad un'associazione.